Ciao a tutti e bentornati con un'altra su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Northern Lights, un gioco che mi ha ricordato molto come tematica, quella di The Long Dark, se non ricordo male, in pratica siamo nell'estremo nord, in questa tundra, e dobbiamo sopravvivere. Il gioco costa 15 euro, 14,99, è in early access, al momento in cui lo sto registrando, è scontato a 8,99 euro, quindi tenete conto, probabilmente vedrete questo video dopo la fine degli sconti, però tenete conto che fino a 8,99 è comunque arrivato come sconto, quindi nella vostra valutazione, se prenderlo o meno. Abbiamo varie difficoltà dall'esploratore, madre natura non sarà una minaccia, giocatori nuovi attenti all'esplorazione, completa il gioco secondo il tuo ritmo, animali selvatici non ti attaccano se non provocati, gli alimenti naturali sono tranquilli. C'è l'ingegnoso, cacciatore o preda, lotti per la sopravvivenza, animali selvatici sono territoriali, e poi c'è il sopravvissuto e preda, e poi tutto customizzabile, quindi dall'esaurimento delle statistiche, risorse mondiali, comportamento meteorologico degli animali, la sanità mentale e la claustrofobia, ma noi lo giochiamo a ingegnoso, iniziamo, c'è anche il multiplayer. Comunque, quindi tenete conto. Il gioco ha delle recensioni per lo più positive su Steam, ci sono ovviamente le critiche, quando un gioco raggiunge il per lo più positivo viene reputato una cosa brutta, in realtà secondo me conta molto un discorso di gusti in questo caso. Mentre il molto positiva è vi piace comunque perché è fatto bene, qui va in base ai gusti. Infatti ho finito tanti giochi, per lo più positivi e per me sono belli. Tradotto in italiano, non sembra male la traduzione, ma la analizziamo adesso. Lo iniziamo dall'inizio, giusto per darvi un po' un input su quello che questo gioco ha da offrire. Si domanda che cacchio è successo. Ok, abbiamo capito cosa è successo. Barra della salute rappresenta la condizione fisica. Evita pericoli come animali salvatici altezze, prenditi quello dei tuoi bisogni, così che la tua vita non scende a zero. Trovi la barra della salute in basso a sinistra sullo schermo. Ok. Abbiamo anche la sanità mentale. Siamo arrivati qui. Vediamo se... E raccogli. Possiamo raccogliere... Beh, questo è un classico, un grande classico. La pietra non la possiamo prendere, però prendiamo il legno, che il legno è molto importante, perché... Tra l'altro... No, questo no. Andiamo se troviamo qualcosa. Legno morto, recupero. Almeno abbiamo i guanti. Che belle, però, le foglie. Ok, andiamo avanti. Qua c'è qualcos'altro. Vedi, write, recupera, raccoglie, prendendo premuto il tasto destro del mouse, ci fa fare la seconda scelta. Abbiamo un rametto, un rametto, io prendo tutto. Con il tasto tab, vediamo. È un inventario simile a quello di... Mannaggia, non mi ricordo come si chiama. Hell qualcosa, insomma. Quello ambientato nella foresta amazzonica. Non mi fa impazzire come tipo di... di menù. Comunque, qua abbiamo anche una mappa. Bisogna capire anche dove effettivamente siamo, ma dovremmo essere... Penso qui. Carino l'effetto degli alberi. E come abbiamo detto, gli animali sono territoriali, quindi dobbiamo fare attenzione a non introdurci nel loro territorio. Puoi trovare una vasta di erbe, tra la flora artica, la pianta e i funghi e deliziosi bacche. Fare attenzione, alcune potrebbero aiutarti a curare malattie, ma altre possono essere assolutamente vilenose, sì. e in effetti sarà carino da scoprire. Sicuramente, allora, io penso che questo non sia il gioco della vita, ma per gli appassionati magari con The Long Dark, con la voglia di magari affrontarlo in cooperativa, potrebbe essere il gioco ideale. Questo senza ombra di dubbio. Io recupero tutto. Ho visto anche comunque degli ambienti molto più, negli screen, degli ambienti molto più aperti di quelli che sono quelli di The Long Dark, per quanto The Long Dark abbia alle spalle diversi anni di esperienza e soprattutto di sviluppo. Vediamo un attimo, qua abbiamo una mappa. Ah, ci stiamo spostando. Ma c'è un punto di domanda di là? Infatti dobbiamo andare di là. Infatti ci guida, 200 metri. Non si vede il resto del corpo, è un peccato, ma... Io raccolgo tutto, ma fatemi un po' vedere. Ok, questo è il contenuto. Bello perché c'è anche là la griglia. Pigne. Tra l'altro mi dava... Qui sono le medicine, questi sono i cibi, qui sono le armi, che possiamo mettere in un dietro e dietro e qui sono... Non so come sia questa categoria, però legnetti vari. Io raccolgo. Non si sa mai cosa succede. Dai, 100 metri. 100 metri infatti comunque in questo clima sono tantissimi. Ah, siamo tornati all'elicottero. Ok, dovevamo andare dalla parte opposta. Sono andato liberamente. C'è un po' di corsa, vedete che la stamina scende. Ci sono altre piantine. Ok, fatemi vedere una cosa. Sottotitoli on, ma non escono. Va bene, niente. Dobbiamo capire dove andare. Vediamo un attimo se c'è un'indicazione sulla mappa. Evidentemente no. Qua abbiamo un diario. Missione naturalmente tracciata. Abbiamo le piante sconosciute, quindi man mano poi andremo ad esplorare. Ci sono le abilità. Macellazione, cucina, tiro con l'arco, costruire a mano. Accensione fuoco. Abbiamo le varie costruzioni che possiamo fare. Pietra, corda, la metto, va bene. No, diceva che ci sono delle tacce. Quindi potrebbe esserci un superstite, un nostro compagno, che è andato magari da qualche parte. Di là, ecco, eh. Ok. Fortunatamente me le segna. Non so dove stiamo andando, ma forse una grotta o qualcosa. Abbiamo finito la stamina, abbiamo bisogno di recuperarla. Quindi camminiamo un attimo. Ok, stiamo iniziando a scalare. Quindi qua mi diventa tipo unsurmountable. Con le tasche piene di sassi. Non resta il segno sulla neve, a quanto pare. Troveremo una grotta. Presumibilmente. Il gioco è uscito a fine 2020. Doveva restare in Early Access 12 mesi. Sì, abbiamo sforato questo tempo. Quindi io penso che dipende un po' da quanto è stato sviluppato in questi anni, ma è già fuori da un po', quindi rimarrà ancora un po' in Early Access. Per il fatto che in italiano fa capire che o sono molto lungimiranti gli sviluppatori oppure sono già messi bene come sviluppo. Allora, all'interno le texture hanno subito già un po' No, lì non erano bellissime. Qua con l'effetto di luce non mi dispiace. Hanno mollato un flare. Quindi c'è qualcuno. Eccolo qui, il nostro amico. Che probabilmente non ce l'ha fatta. Direi proprio di no. Alexei! Alexei. È morto. Bussola? Eh, no, scusami. E? Tutto ciò che raccogli va direttamente nel tuo inventario. Lattina riciclata. Abbiamo preso tutto. Quindi vediamo un attimo cosa abbiamo preso. Lattina riciclata. Niente, niente di che. Non abbiamo trovato nient'altro. Allora, abbiamo con la C la bussola. Orientati per l'intera reati che tiene premuto C. E abbiamo la bussola. Con la T abbiamo l'orologio. Ah, cliccando che è fantastico ci fa vedere anche i gradi. E qua dentro sono 0,3 gradi. Il livello di temperatura nostro, la sete e la fame. Interessante. Andiamo fuori! Frecchiai fatti! Meno uno, sanità mentale. l'altura sanità mentale è diminuita un po' lovecraftiano se vogliamo ma anche se non troppo l'altura sanità mentale è diminuita dalle cattive condizioni mancanza della gestione statistica di eventi spiacevoli più bassa è l'altura sanità mentale più vicino sai diventare pazzo a avere l'allucinazione le allucinazioni sono uno dei primi sintomi della perdita di sanità mentale innocue inizialmente incredibilmente pericolose più tardi quindi innocue inizialmente incredibilmente fare attenzione a eventi pericolosi come prendere patologie essere ferito da un animale o mangiare un'erba velenosa diminuiranno la tua sanità mentale va bene spero di non tornare indietro ok ma quindi vediamo un po' verso sud dobbiamo andare ispezionare c'è una località nelle vicinanze in modo migliore utilizzare il tuo binoculo premi V ok vediamo un po' cosa troviamo con V là ci sono dei container credo campo di ricerca andiamo a dargli un'occhiata nei giochi io ho sempre apprezzato il viaggio il viaggio mi è sempre piaciuto in generale da quando giocavo a D&D come master o come giocatore il fatto di comunque godersi un viaggio e la soddisfazione di arrivare cosa che nei videogiochi ho trovato poche volte adesso è una figata questa cosa che vedi lì e ti scali la montagna e scendi ma l'unica vera grande esperienza che ho avuto di viaggio è stato Death Stranding poi non voglio attirarmi le ire dei videogiocatori ma da quel punto di vista l'ho trovato un grandissimo gioco quello che non c'entra nulla con gli indie però se avete altri suggerimenti su giochi basati comunque sul viaggio sul fatto di comunque organizzarsi e fare dei viaggi fatemi sapere qua non si percepisce quella cosa che si percepisce in The Long Dark di bufera di neve morte imminente è molto più easy al momento sicuramente peggio era andando avanti questo è solo una sorta di tutorial però già se mi hanno lasciato tutto chiuso qui c'è tutto aperto i sottotitoli non si vedono scopri cosa è successo beh ci sarà un modo di attivarlo uno di questi generatori no? questo è un po' al caldo c'è una mappa vuoi vedere che è la mappa che abbiamo anche noi? no c'è un lago però non lo posso prendere cassa vuota cassa vuota la porta non è interagibile questi serbatoi saranno praticamente congelati fatemi un po' vedere che temperatura c'è meno 25 fogli che non leggiamo c'è una stufetta c'è un computer si dobbiamo controllare il cavo il cavo è qui è ben bisogno di sistemarlo si ma io come lo sistemo il cavo? è congelato deposito posso depositare roba qui ma non mi interessa la tenda chi usa non si può entrare? no io come cacchio lo sistemo scusate ma se io vado a vedere nel diario questo è il campo di ricerca in cui avrei dovuto lavorare tutti i licenziati sono morti la base deve stare devo scoprire cosa è successo qui va bene qua ci sono un sacco di cose ma in realtà non so come fare a sistemare quel cavo in realtà perché il cavo è rotto cassa non c'è dentro niente fatemi un po' vedere 16 e 11 no che lo valore fermo anche qui non si può fare nulla pezzo di nuovo adesso me lo fa raccogliere ho trovato un'altra zona Misterious Woods ok i boschi misteriosi va bene allora io adesso non ho la minima idea delle cose che devo fare durante il gioco possono essere contrate varie patologie possono essere visualizzate tenendo il tasto Q ho rischio di patologia non è ancora una patologia ma in percento di diventarlo tra il trattamento devi usare il diario alla ricerca di indizi sperimentare ok figata come quel gioco ambientato anche nella nella foresta amazzonica vediamo un attimo se abbiamo qualche patologia a rischio di ipotermia beh sì ci sta sono pienamente d'accordo il problema il problema è che io non so dove devo andare devo andare sud-est di là bussola no scopri cosa è successo ho un par di palle perché io non non ho modo di qua si sta decisamente meglio ok raccogli raccogli ma io scoprirei anche cosa è successo ma se mischiati di freddo niente devo capire dove cacchio il nord è andare a sud-est il nord è di là di qua devo andare sì sto rischiando di potermia sì sto andando abbastanza giusto vediamo se trovo qualcosa probabilmente non devo andare di qua meno 28 con un vento meno da intorno sì l'ipotermia sta arrivando dovrevo diciamo sapere subito che cosa fare ma purtroppo non ce l'ho fatta intanto sto continuando ad andare verso qua è dove eravamo prima probabilmente la montagna ho anche finito la stamina andiamo in giù e vediamo torniamo nella caverna magari perché comunque sono le 17-26 sta per passare il giorno sì qua c'è qualcosa ma sarà la caverna? sicuramente vediamo sì dovrebbe essere la caverna però ce ne erano anche altri niente ho l'ipotermia vediamo se cambia qualcosa entrando qui dentro eh si sta un pelo meglio ma neanche tanto vediamo se trovo qualcos'altro qui che poi tra l'altro c'è riprendi la partita carica partita quindi ci saranno dei checkpoints qui c'è ancora il nostro socio per cui non abbiamo potuto fare nulla sta diventando anche buio adesso no 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 è tutta una finta voglio vedere una cosa però voglio vedere voglio vedere cosa succede se si muore ok ok sì come dicevo c'è un un carica checkpoint ma in questo caso non abbiamo nessun checkpoint quindi bisogna uscire per forza e perché non abbiamo completato ancora nessuno niente nessuno allora il gioco senz'altro non è da buttare perché comunque per un appassionato di survival di questo tipo non è male calcolando che è anche in italiano bisogna questi giochi approfondire di più ovviamente però ecco l'obiettivo di questo video come anche di tanti altri è mettere alla luce questo gioco farvelo conoscere e darvi un input il prezzo se calcoliamo lo sconto 8,99 euro che c'è durante i saldi steam ma che potrete secondo me ritrovare anche in futuro beh diciamo che potrebbe valerne la pena attendo i vostri parieri qua sotto come vedete 0.8 è l'access quindi fa capire che stiamo arrivando verso la 1.0 magari entro l'anno fatemi sapere e alla prossima ragazzi ciao ciao